e ultima conferenza di oggi ritratti e paesaggi fuori concorso a guardia di una fede di andrea abbiamo andrea zambelli credo e andrea zanoli sbaglio ok e basta e poi c'è davide ferrario produttore del film in prima fila che preferisce stare in disparte forse perché ci ha avuto il bagno di folla pochi minuti fa pochi minuti fa a guardia di una fede io che sono un tossico dipendente di calcio vi capisco anche se poi guardando il film ho avuto un momento legato a quella che è la mia di fede ma questo questo non è interessante e vabbè giallorossa e quindi sono stato anche sono stato anche diciamo schiacciato da un da un carro armato no questa è la storia di claudio galimberti detto il boccia e adesso poi vi lascio la parola e mi chiamo claudio pure io per cui in un certo senso poi l'empatia nei confronti di questa storia l'ho vista è la storia di un tifoso di un ultra di una squadra di calcio che sta andando per la maggiore si chiama l'atalanta ma lascio la parola al regista e cosceneggiatore diciamo che racconto un attimo com'è andata la genesi di questo film allora nel 2000 quando avevo già cominciato a studiare cinema nel senso che stavo facendo il damsa bologna avevo appena fatto un corso per operatore di fotografia digitale era un momento storico particolare dal punto di vista della tecnica nel senso che erano uscite le camere digitali da mini dv questa cosa segnava uno scarto nel senso che prima comunque spostare una macchina da presa che avesse una qualità sufficiente per realizzare un film in un contesto come poteva essere la curva era molto complicato tecnicamente e aveva anche dei costi molto molto alti diciamo che tutta la mia generazione di film la mia generazione di filmmaker si è avvantaggiata no di questa di questa innovazione tecnologica sul digitale improvvisamente avevamo delle camere piccole ma di qualità costava poco perché costava 4500 lire ma questa è stata una rivoluzione proprio in ambito cinematografico per i filmmaker insomma si 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 beh in italia soprattutto poi ha dato luogo tanti film che l'hanno iniziato proprio in quel periodo lì proprio perché dava la possibilità di cominciare a fare un film ovviamente non avevi una produzione all'inizio quindi cercavi di sviluppare il tuo progetto e di farlo partire con le tue forze quindi sicuramente c'era questo vantaggio in più con una camera comunque a tre ccd garantiva una buona qualità l'audio che era una cosa importante c'erano i microfoni interni delle camere che comunque erano diventati performanti e ti permettevano di fare interviste ho fatto interviste in mezzo alla curva comunque chiaro che l'audio non era pulitissimo ma l'audio si sentiva questo poi succedeva vent'anni fa quasi più o meno 99 più di vent'anni fa più di vent'anni fa io collaboravo con questo gruppo di video artisti con cui avevo anche oltre il corso avevo sviluppato un attimo la mia tecnica di ripresa la mia diciamo così il mio stile anche anche di ripresa le caratteristiche di quel tipo di cinema diciamo così degli inizi digitali era senza cavalletto le batterie due batterie in tasca 2000 divi in tasca one man band però insomma ti permetteva una mobilità e un'agilità poi a me piaceva molto eravamo chiaramente influenzati dal dogma in quel momento lì perché comunque io ho visto festa e ne ho detto la camera la voglio muovere così e quelli più o meno erano i riferimenti e cosa racconto perché c'era voglia di fare cinema cosa racconto e lì è saltata fuori un'altra cosa cioè la voglia di raccontare qualcosa che non era mai stata raccontata dall'interno come era la realtà della curva nord atlanta ma in generale la realtà della realtà delle curve in più un altro motore è stato io comunque ho cominciato a frequentare la curva del 93 e devo dire che se nasce a bergamo nell'arco di anni che sono nato io la curva uno spazio che prima o poi ti trovavi a frequentare bergamo la città piccola non era milano non era torino quindi insomma la curva era il primo aggregatore il primo non lo so poi leggendo a kim bay poi mi sono detto era una taz era una zona temporaneamente autonoma è una zona dove le regole dello stato si definivano e entrava in ballo l'autogestione tra individui quindi in più c'era la questione anche della strumentalizzazione mediatica che vedevo io ho cominciato a frequentare quel mondo nel 93 guardando sui giornali mi ricordo che dicevano ma vado in curva mi dicevano insomma c'era una dissonanza grossa tra quello che veniva raccontato dei media e quello che avevo visto con con i miei occhi quindi l'idea è stata proviamo a raccontare questa 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 realtà è stato molto difficile perché comunque non c'erano i cellulari quindi l'uso delle immagini aveva una credibilità lì perché comunque che mi permetteva di portare la camera è sì perché anche lì c'è uno ci sono delle leggi non scritte che regolano queste cose dei codici appunto è come filmare non so all'interno di una tribù la conosco bene ma devi anche lavorare secondo quella quel tipo di linguaggio e quel tipo di ritualità anche che esiste all'interno di all'interno di questo mondo all'inizio sono state le resistenze nel senso che però comunque veniva più o meno accettata la mia presenza con la camera poi quando ho costruito un corpus di girato che ha durato circa nove mesi allora lì il problema ulteriore le interviste perché comunque per far uscire i contenuti in quel momento lì lo stile che usavamo era quello dell'intervista anche molto frontale senti il focus su boccia quando arriva ma diciamo che in quel film che ho fatto che è il primo film con cui esordito che farebbero tutti silenzio con cui grazie a cui ho conosciuto davide al festival di genova mi avevamo preso selezione lui era in giuria ho vinto il secondo premio quindi poi è nata anche quella collaborazione diciamo così ho fatto molte interviste quando ho fatto la sua continuava nel senso mentre lo editavo aveva sempre più spazio comunque parliamo di una persona con un'energia incredibile con una capacità anche linguistica molto alta avrà la terza media ma una capacità anche di elaborare concetti e di esprimerli molto alta idee molto chiare su cosa anche stava succedendo nel sistema calcio capiva che eravamo quasi alla fine di un'epoca anni 90 voleva lì aveva quest'idea della curva unita del gruppo compatto insomma di una tifoseria che si legasse anche al territorio della città che non andasse solo nella curva non so una frase del film una curva coinvolge lo stadio lo stadio coinvolge la città c'era quest'idea di allargamento nel film si vede molto bene perché se guardiamo le immagini alla festa idea la festa idea c'era serate con 15 mila persone la curva aveva 5 mila persone quindi molto più grande della curva c'erano famiglie è riuscito veramente a coinvolgere un'intera città dentro la passione per per l'atalanta quindi è stato inevitabile che poi c'è stato un processo comunque io poi mi sono spostato a vivere in altre città sono andato in giro per il mondo a fare altri film però continuavo a riprendere qua realtà lì un po me lo chiedevano anche loro perché soprattutto poi dopo il 2006 hanno capito anche loro che un po di comunicazione andava fatta per cui io e altri film che ogni tanto gli aiutavamo per la loro comunicazione questo ha permesso al corpus di girato di espandersi di espandersi fino al più o meno al 2019 quando quando ho cominciato a riguardare quel girato di e lì è successa la solita cosa di dire questo materiale non può restare nel mio cassetto e no e non può neanche essere magari c'erano già i social o youtube ma non ha senso pubblicare uno spezzone cioè serve il cinema perché devi creare una narrazione devi creare una mitopoiesi no deve essere una roba che anche le generazioni nuove guardano e sviluppano immaginario mentre immagini su youtube non sviluppano immaginario e meno che meno sui social tipo facebook o giù di lì quindi l'idea di fare un film a quel punto sono tornato a claudio e detto guarda qua c'è abbiamo visto un po di materiale assieme e gli ho detto qua c'è una storia da raccontare per chiudere questa storia servite anche la senti e all'inizio ho detto lui è stato molto esposto mediaticamente anche molto eh lo so lo so certo ma nel film si evidenzia è evidente questo secondo me comunque almeno questa è anche la percezione della città eccessivo il suo accanimento verso di lui perché comunque insomma un processo per l'associazione delinquere come condanna sei anni per una curva che il processo poi il giudice ha detto non è un'associazione delinquere sarà tifo sarà anche tifo violento ma non c'è business non c'è malavita insomma quindi l'accanimento cosa che invece in altre tifoserie c'è stato e c'è stato magari ecco noi siamo una tifoseria comunque provinciale con delle dinamiche molto più controllabili le grandi piazze hanno dinamiche molto più complicate hanno anche un volume eh di business molto più molto più alto la nostra situazione invece era anche abbastanza controllabile e chiaramente il gruppo che poi Claudio ha tirato su era un gruppo molto coeso molto compatto quindi con una certa forza che ci ha permesso per esempio di non avere infiltrazione di malavita organizzata è infatti che altro tipo di situazione che è già stato una inoltre il cuore nel senso non so essendo cresciuti comunque in quella fase loro tra 91 96 c'era molto l'idea che la curva deve fare solidarietà la curva è anche un'entità che agisce sul sociale adesso sembra strano dirlo però la curva ha spinto quasi 120 mila euro per un asilo pediatrico in Ruanda che si dice che si dice nel reparto pediatria dell'ospedale di Bergamo terremoto dell'Aquila terremoto di Bergamo poi dell'ospedale di Bergamo ne parleremo perché c'è una cosa molto importante Andrea Zanoli invece quando arrivi come entri nel progetto? Allora io entro nel progetto intorno al 2015 direi quando appunto con Andrea lavoriamo insieme da anni siamo amici è stato il mio maestro e nel 2015 appunto Andrea sempre come diceva da quando aveva iniziato a girare ha sempre continuato insomma a portare a prendere materiale nel 2015 aveva proprio iniziato a pensare che forse questa continua osservazione anche sporadica poteva diventare un film e effettivamente mi ha coinvolto per iniziare a ragionare su che tipologia di documentario potesse insomma venirne fuori e da lì abbiamo continuato in maniera periodica a ragionare a strutturare e destrutturare a seconda di quello che giravamo e a seconda di quello che accadeva perché poi dal 2015 allora il film compra un arco narrativo appunto di un ventennio e in vent'anni anzi quasi trenta direi e in trent'anni le trasformazioni sono le trasformazioni sociali non solo della curva ma anche del sistema calcio della città diventano proprio molto percepibili e nell'ultimo decennio nell'ultimo decennio c'è da dire che addirittura questa curva di trasformazione è stata esponenziale e quindi abbiamo fatto proprio un lavoro costante di rielaborazione di ciò che accadeva da un lato appunto riprendere quello che stava succedendo sia in curva sia in città sia a Claudio stesso e dall'altro continuare ad avere questi momenti in cui cercare di rielaborare, di guardare con un filtro sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista sociologico ciò che stava succedendo per capire poi come rimettere insieme tutti questi pezzi per fare in modo che poi effettivamente raccontassero una storia perché poi succedono veramente tante cose se lo stadio ad esempio di Bergamo da uno stadio pubblico comunale è diventato uno stadio privato e si è trasformato e tutte queste piccole cose che sembrano piccole in realtà sono evidenti sintomi di una società che cambia to cure è un po' diciamo guardare il micro per andare a parlare proprio delle macro trasformazioni che investono tutta la società in Italia e non solo quindi dal 2015 abbiamo iniziato a lavorare e sta trasformando proprio la passione c'è un'evoluzione anche tecnologica proprio per riprendere il discorso di prima perché partiamo con la mini dv quindi 720x576 sd poi è arrivato l'hd poi è arrivato il 4k quando è entrato lui che comunque è una casa di produzione anche le macchine erano molto più evolute l'audio è cresciuto nel senso che comunque magari lavoravamo in due però uno gestiva la camera uno gestiva l'audio c'è questa progressione anche di formati infatti abbiamo scelto il cinema scope perché era il formato con cui abbiamo girato più o meno dal 2015 in poi e le prime riprese sono in quattro terzi per cui c'è questa evoluzione col formato che anche fisicamente si ampia per andare sullo stesso sì che poi è narrativo anche quello c'è qualche domanda dalla sala? no vabbè allora continuo io quindi poi la figura di Claudio Galimberti diventa predominante rispetto al resto perché poi è lui che racconta quello che sono voi i vostri presupposti Dario vuoi dire qualcosa? Davide Ferrari vuoi? no vado continuo non vuoi dire nulla eh rimani lì cioè è lui poi alla fine che diventa il narratore la voce narrante dell'evoluzione sia del mondo ultra ma anche del calcio anche del calcio che viene rifiutato un certo una certa idea di calcio è ostica per chi l'ha vissuto e l'ha amato in un certo modo sì 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 in questo in questo senso assolutamente nel senso che la nostra curva è stata diciamo così protagonista anche in tutte le battaglie che hanno unito anche i gruppi ultra il famoso calcio ci fa scaifo no? il calcio ci fa scaifo che è un coro che ancora si canta e la testa del tifoso tutte quelle introduzioni di una serie di norme io nel senso per un film di Davide abbiamo avuto la fortuna di intervistare Desmond Morris come no? la tribù del calcio la tribù del calcio è stato illuminante al di là che se ti ricordi Davide quando siamo arrivati lì gli ha detto sia di Bergamo lui subito Atalanta io vado a vedere l'Oxford perché lui andava ancora a vedere l'Oxford che è serie penso C o B insomma ecco nel suo libro lo spiega bene nel senso che cioè come dice battaglia rituale, rito sociale lo descrive molto bene una partita ecco quello che rimane adesso forse cioè la tendenza è quello di un salotto iper sorvegliato eh sì sta diventando spettacolo dove ti consumi lo spettacolo anzi ci sono tutti dei meccanismi per fartelo consumare come nell'analisi antropologica di Morris uno dei motivi per cui lo stadio era all'aperto era esposto al freddo, alle intemperie era perché tu dovevi immedesimare con chi giocava al calcio questo sta finendo sta diventando un'altra cosa è un discorso molto tribale che fa essendo un grande antropologo riesce a tracciare benissimo quella linea lì la direttrice chiaramente va in controfase con la direttrice del calcio moderno va in controfase con quello che è l'essere ultras a Bergamo devo dire che la curva anche adesso mantiene una sua forse resilienza adesso perché resistenza magari è una parola non ci sono più le forze che avevamo prima ecco anche per sostenere un certo tipo di battaglia però devo dire che comunque ha sempre tenuto una linea anche coerente rispetto a questo e anche alcuni passaggi secondo me di dire andiamo oltre la rivalità e cerchiamo come ultras di fare fronte comune rispetto a questa evoluzione mi sembra che questa sia ormai l'unico filo conduttore che rimane di quello che era un calcio antico tra virgolette cioè questo legame tra gli ultra delle varie curve di tutta Italia mi pare che è evidente il tatuaggio che Claudio Galimberti si fa sul braccio del simbolo della Triestina che è stato acerrimo nemico precedentemente che invece nel momento in cui della manifestazione per Paolo Scaroni che era a Brescia tifoso del Brescia sì la rivalità enorme non so quel viaggio lì che siamo partiti dalla stazione di Bergamo siamo arrivati a Brescia insomma c'era tutto il gruppo di loro che ci aspettava è stato un momento comunque mi sembrava quando si è scesi ok Corral visto che siamo in tema di western però poi lì si è lavorato si è lavorato bene hanno lavorato bene assieme poi non sono mai stato interno al gruppo è sempre stato un cane sciolto diciamo così della curva ho sempre mantenuto anche un ruolo di dargli una mano sulla comunicazione su tutta una serie di passaggi più di proposizione verso l'esterno ecco allora per evitare quello che è successo prima che sono stato accusato di togliere la parola se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa altrimenti continuo io perché poi purtroppo per me per quello che è stato il passato è una cosa che mi appassiona abbiamo sette minuti parlavamo prima dell'ospedale di Bergamo il Giovanni XXIII che ha una posizione importante all'interno del film chi vuole rispondere Andrea? è stato sull'onore delle cronache perché? però bisogna raccontarlo perché è significativo Bergamo è stata per Bergamo è stata abbastanza scioccante soprattutto per insomma tutta una componente della città insomma comunque era la chiesa dell'ospedale nuovo che si stava costruendo la realizzazione della palla d'altare è stata affidata a Andrea Mastrovito che è un artista importante bergamasco e quando c'è stato il momento in cui dell'ufficiale della presentazione che hanno tirato il telo e molta gente ha detto il Cristo è il Claudio l'artista ha detto no non è così comunque non adesso io anche nel film non definiamo esattamente come Cristo lì perché personalmente non so se l'artista l'ha preso o ha voluto fare una citazione oppure no comunque particolare perché è un Cristo che normalmente in iconografia cristiana questo me l'ha spiegato l'artista il Cristo nella chiesa è prima della risurrezione quindi normalmente ha la testa bassa questo è un Cristo che guarda in alto è molto fiero come Cristo effettivamente anche io quando l'ho visto ho detto per me è Claudio vescovo è quasi svenuto alla presentazione perché comunque c'è stato un attimo c'erano tutte le istituzioni come idea poi qualche giornale ne ha speculato l'artista ha detto semplicemente che è una somiglianza più o meno casuale non si sa rimane nella testa dell'artista quello che voleva fare è chiaro che poi quando è stata alimentata anche dai giornali visto che eravamo nel momento anche della pressione mediatica su di lui nell'agonia mediatica su di lui più potente qualcuno ci ha visto un simbolismo e giustamente poi come mi diceva sempre Andrea Mastrovito cioè il compito dell'artista è magari buttare un segnale e capire come poi il caos anche comunicativo risemantizza l'opera stessa e gli fa assumere nuovi significati senti la visione cristologica della vita di Claudio degli ultimi anni che ha dovuto affrontare processi eccetera eccetera si è innescata poi con questa cosa che l'autore l'artista dice no non è così però dal punto di vista narrativo e chiedo Andrea Zanoli voi l'avete impostata riflettendo su questo su questo concetto c'è da dire che è venuto naturalmente ad un certo punto nel senso che proprio analizzando mano a mano che si girava mano a mano che si rifletteva su la sua storia e la sua storia di vita si è proprio venuta quasi a permetto che nessuno di noi due ha radici profondamente cattoliche quindi anche dal punto di vista della diciamo della ageografia non è che siamo cerratissimi però le conoscenze ci sono inevitabilmente le conoscenze di base ci sono e c'è proprio sembrato l'ampante e la palistiano man mano che andavamo avanti a sviluppare la storia questa sorta di di racconto di passione ecco è una sorta di passione di quasi diciamo la sua vita anche perché poi racconta effettivamente quello che è il suo amore più grande e che gli è stato tolto che gli genera anche sofferenza perché ricordiamo che comunque sono 30 anni che non mette piede allo stadio 30 anni di Laspol un record assoluto dal punto di vista due minuti abbiamo e volevo soltanto sapere se Claudio Galimbetti ha visto il film e che cosa cosa ne pensi l'ha visto ovviamente perché comunque c'era da passare no diciamo che anche c'era stato anche con farebbero tutti silenzio quella fase lì nel senso che magari era comunque abituato alle interviste giornalistiche però se non sei diciamo dal mestiere non vai tanto al cinema capire che cos'è un film di un'ora e 40 insomma quando l'ha visto ha detto finalmente ho capito perché mi hai rotto le scatole per tutto questo tempo ne è valsa la pena sì sì ha detto comunque poi la cosa cioè aggiungo che una suggestione per me forte è stata il fatto che quando è stato costretto a lasciare Bergamo per tutti i problemi giudiziari questo contatto col mare perché è stato casuale che lui poi si è posizionato nelle marche ha avuto subito ha conosciuto le persone di molta gente vive comunque sul mare e diciamo che il mare anche nel film poi c'è questo simbolo comunque di ritrovare una sua libertà nel senso che magari era stata negata sull'agibilità che aveva anche nella città e tutto l'ha ritrovata proprio in questo confronto per me è stato molto affascinante e ha imparato il mestiere subito nel senso che molto bravo stimatissimo sul lavoro lavoratore come si dice è uno che quando lavora lavora poi ha una potenza energetica che insomma bello è stato bello anche seguire la roba della coltivazione di cozze insomma andare a pescare ogni tanto il lavoro dei cavalli poi Senigallia è bellissimo un posto bellissimo allora io poi voglio instillare il dubbio a chi non ha visto il film e voglio dare una cosa una curiosità così almeno allora vado a vedere così finale meraviglioso complimenti abbiamo finito questa conferenza a guardia di una fede grazie a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti